Cari ascoltatori di Radio Pugino NER, ben ritrovati per una nuova notizia flash. Fiorella Mannoia torna a stupire con il suo prossimo album Disobbedire, in uscita il 29 novembre. Un progetto che celebra i 70 anni di una delle voci più amate della musica italiana, composto da nove brani, sia inediti che rivisitati. Tra i brani spiccano temi profondi, impegno sociale, uniti all'amore e alla consapevolezza, che hanno sempre contraddistinto l'artista. Alcuni pezzi del disco sono stati firmati dalla Mannoia stessa, come Mariposa, già vincitore del premio Sergio Bardotti al Festival di Sanremo e del premio Elsa Morante, dedicato alla storia delle sorelle Mirabal. E poi c'è Disobbedire, il singolo pubblicato a settembre, che dà anche il titolo all'album, un invito all'autenticità in un mondo sempre più omologato. Per i fan non mancheranno collaborazioni sorprendenti. Nel brano La storia non si deve ripetere troviamo Francesca Michelin e Federica Abate, mentre in Dalla parte del torto duetta con Piero Pelù e in Domani a primavera con Michele Bravi. L'album è già disponibile in pre-order nei formati CD, vinile nero e una versione limitata, in vinile trasparente autografato, con una grafica speciale ispirata alla cianotipia, una tecnica fotografica storica risalente al 1842, un omaggio all'arte visiva che si sposa con l'intensità dei brani. E Fiorella Mannoia non si ferma qui dopo il successo estivo del tour Fiorella Sinfonica Live con orchestra, che ha fatto il tutto esaurito nelle più belle location italiane. Continua ora il suo viaggio nei teatri, un tour autunnale che toccherà le principali città italiane tra novembre e dicembre, regalando ai fan la possibilità di vivere l'intensità di questi brani dal vivo. Cari ascoltatori, questa è un'uscita imperdibile per gli amanti della grande musica italiana e non perdete l'appuntamento con Disobbedire, dunque, di Fiorella Mannoia il prossimo 29 novembre. E rimanete sintonizzati su Radio Puggino NER per le prossime notizie flash.